Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In FIPILI per lavori di messa in sicurezza presso il viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna, fino alle 18, tratto chiuso per lavori tra Albivio con la variante di Balico-Bacchieraia e Aglio e Traaglio e Rioveggio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!